Eccoci qui come state, un saluto a tutti e ben ritrovati, invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi. Allora, notizia di Mercato Milan molto importante. A inizio settimana è stato, ed è stato anche, si è immortalato pure sui social, Bart Beving in sede al Milan, agente tra gli altri di Cup Miners, ma rappresentata dell'agenzia Wasserman, una agenzia molto conosciuta che ha ottimi rapporti con Moncada. Visita di cortesia oppure no? Tutto può essere. In realtà poi abbiamo un po' analizzato il portfoglio dei suoi clienti, diciamo così, e abbiamo già addocchiato dei nomi già costati al Milan in passato. Al di là di Cup Miners, Robinson, il terzino sinistro inglese, e anche Ferdi Cadioglu, il terzino tuttofare del Fenerbace. Attenzione, perché, ecco, abbiamo scoperto che più di una visita di cortesia si è parlato proprio di Cadioglu, lo ha scritto anche la stampa turca nelle scorse ore. Per chi non lo sapesse, Cadioglu è un 24enne, ne farà 25 ottobre, terzino alto 1,74, o qualcuno dirà basso 1,74, nato in Olanda ma turco, scadenza con il Fenerbace 2016. Lui ha fatto, nella sua carriera di tutto, il trequartista, il terzino sinistro, il terzino destro, il centrale, l'esterno destro, la mezzala, davvero tanti, 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 tanti ruoli. E quest'anno ha fatto fin qui 25 presenze e 2 assist nel campionato turco, in conference un gol, lo scorso anno 3 gole e 5 assist nel campionato turco, l'anno prima 2 gole e 1 assist, l'anno prima 4 gole e 4 assist. Il giocatore che, se vedete le skills su YouTube, è molto qualitativo, salta l'uomo, conduce la palla con grande qualità, ha anche il tiro, chiaramente è molto, molto, molto meno esuberante dal punto di vista fisico rispetto a Teo Hernandez. Resta da capire se, come scrive la stampa turca, può essere il sostituto di Teo in caso di partenza, o se può essere magari un giocatore che diventa l'alternativa a Teo e che può essere spendibile anche da altre parti nel campo. L'apprezzamento c'era, è tornato d'attualità dopo questo incontro, ripeto, guardatevelo su YouTube, profilo che fin qui ha questa mappa di calore, una fascia sinistra piena piena piena, ma guardate, gioca anche sulla destra, quindi sarebbe estremamente duttile, qualità sempre apprezzata. Ditemi che ne pensate se può essere un Viceteo, oppure addirittura un sostituto. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un like, iscrivetevi sull'apprezzamento di Moncada, ragazzi. È risaputo e ci metto la mano sul fuoco. Iscrivetevi e magari commentate dopo aver visto anche le immagini su YouTube. Un saluto!